Secondo me Roma fa caldo Però probabilmente ho dei problemi io Bella ragazzi e ben ritrovati finalmente sul mio canale Era parecchio tempo che non dicevo questa cosa Perché era parecchio tempo che non registravo effettivamente Sono stato in vacanza e ci sono stati altri mille problemi Quindi comunque sono qui oggi con un video extra Non è né un episodio dell'O2D1 Né tantomeno il fuck you time che state aspettando Intanto oggi sono qui per dirvi che incredibilmente L'avrete sicuramente dato dal titolo Non sono più partner di MarketFoot Ma sono passato a collaborare con un altro sito di crediti Voi giustamente direte a fe Ma quanti te ne sei fatti? Non hanno? Ho manco cicciolina Il sito ve lo dico subito Tornando a noi è FIFA Coins Buy E quindi io non mi limito Intanto la luce lì va a puttane Perché parlando cicciolina non vorrestiamo in un momento E non mi limito a dirvi passate sul sito Io vi dico solamente un paio di cosucce Allora Se voi passate sul sito di crediti Andando nel link in descrizione E inserendo il mio coupon Che è sempre Fede Marconi tutto maiuscolo Tutto attaccato Avrete Non il 5 Non il 6 Il 26% di sconto ragazzi Quindi Ripassando un po' di punti fondamentali Loro in questo periodo stanno facendo un'offerta importante Che è quella appunto Del 20% di sconto Passando dal link Che danno a A colui con cui collaborano Inoltre Io richiesto il mio coupon personalizzato Che implica un normalissimo 6% di sconto Anziché il 5 Che è più comune E quindi in totale 26% di sconto Quindi chiaramente voi Se volete questa cifra Che comunque è parecchio Ristretta a questo punto Dovete passare assolutamente al link Cioè se voi per esempio andate Normalmente sul sito Inserite il coupon Oppure fate il contrario Andate dal link Ma non inserite il coupon E non avete il 26% di sconto Chiaramente è meglio andare dal link Perché avete già il 20% Però se volete Mettete anche il coupon mio Mi fate solamente un piacere Quindi ragazzi Già da questo momento Voi potete passare sul sito Per comprare i vostri crediti E niente Io mi sembro uno di quei venditori ambulanti Che devono fare le offerte Al televoto Tipo votatemi Perché io farò tutto per i soldi Questo video chiaramente L'ho fatto per questo motivo E nei prossimi giorni Un po' di novità rapide Io partirò il 29% Sarò fuori 3 settimane In Inghilterra Tornerò il 18 agosto Nel frattempo Ci sarà la top 15 La top 15 Che vi ho preparato Lo sa chi mi segue Su la pagina facebook E quella uscirà Prima che io parta Perché la voglio lasciare un po' sul canale E quindi sarà l'ultimo video Probabilmente uscirà il 27% Il 28% Prima Se ce la faccio Sicuramente carico questo video Se ce la faccio Vi parto anche l'episodio Dell'errotto di Mission One Dipende da Dio e da FIFA Cioè due cose molto congiunte Ottimamente Quindi io concludo qui Vi ripeto Punti fondamentali Link in descrizione Mio coupon Totale 26% di sconto Noi ci vediamo nei prossimi video Bello Bello Grazie a tutti.